La discussione è stata ricchissima, che ha raggiunto alcuni obiettivi importanti. Prima di tutto la condivisione dell'impianto fondamentale della riforma, la delimitazione delle aree dove permangono delle differenze di vedute, di opinioni. L'impegno ad adoperarsi con i capigruppo a dare priorità assoluta in Parlamento per l'approvazione della riforma in tempo utile per l'elezione del prossimo Consiglio Superiore della Magistratura e la consapevolezza della necessità di un pieno coinvolgimento delle forze politiche insieme al rispetto dei tempi è stata un'altra caratteristica condivisa. Quindi niente tentativi di imporre la fiducia così. Ci vuole un accordo, ci vuole condivisione. È un provvedimento di portata tale che necessita di questa apertura. Il governo dovrà fare un altro intervento. Credo di poter dire sotto il controllo del Ministro Franco che questo intervento sarà presentato la prossima settimana. Posso soltanto dare le linee fondamentali. Le linee fondamentali sono c'è una parte di questo intervento che è fatto di sostegni, cioè di cercare di contenere l'emergenza. Poi c'è una parte più strutturale che è un intervento sull'offerta di energia, quindi potenziamento delle rinnovabili, potenziamento della produzione di energia. Vorrei anche aggiungere un'altra cosa però. Ho visto che tanti, diciamo anche tanti politici così, mi candidano a tanti posti in giro per il mondo mostrando una sollecitudine straordinaria nei miei confronti. Io li ringrazio molto, li ringrazio moltissimo. Ma tra l'altro vorrei rassicurarli che se per caso decidessi di lavorare dopo questa esperienza, probabilmente un lavoro me lo trovo anche da solo. Era una riforma ineludibile per una ragione imminente che è la scadenza del Consiglio Superiore attualmente in carica e che dovrà rinnovare con le proprie elezioni nel mese di luglio, ma anche per accompagnare, per stare a fianco della magistratura in questo percorso di rinnovamento e pieno recupero della fiducia e della credibilità su cui ancora pochi giorni fa il Presidente della Repubblica ha fatto un richiamo importante nel suo messaggio alle Camere. Sia chiaro, questo percorso di rinnovamento è innanzitutto un percorso che ha a che fare con l'attitudine personale delle persone, lo diceva la Corte Costituzionale, una forma mentale, un costume, una coscienza, ma norme più adeguate e più rigorose possono sostenere la magistratura in questo percorso. Allora, il PNRR nasce avendo in mente l'obiettivo dell'inclusività, che si declina, inclusività verso i giovani, verso le donne e verso le aree del Paese in situazione economica meno favorevole. Non a caso il 40% delle risorse del PNRR è destinato alle regioni meridionali. Il recupero delle regioni meridionali rispetto al resto del Paese è nell'interesse fondamentale di tutto il Paese. Vedi, questo ce lo dirà la scienza, sicuramente una quarta dose nell'immediato? Sicuramente no. Un richiamo annuale, così come avviene per l'influenza, sarà probabilmente necessario, verosimilmente fortemente raccomandato, bisognerà vedere quando, a seconda della circolazione del virus, a chi, quindi a chi sarà fortemente raccomandato e anche con quale vaccino.